Musica Vittorio Miotto insieme ad Alessandro Verna un altro esponente della classe Under 25 quindi da tenere molto doppio nella speciale classifica dove Pirelli premia i vincitori dell'Under oltre ai vincitori delle classi con i loro prodotti insieme ad Alessandro Verna Grazie a tutti. 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 Bene, bene. Ci siamo divertiti un sacco la prima volta con questa macchina, ma ci siamo divertiti veramente tanto. Ma signor Ela cosa dice? È bravo? Più o meno. Più o meno è vero, hai ragione. Lo conosciamo bene. Dai, lo facciamo bene. Ciao ragazzi, grazie.